Musica Abbiamo alle porte grandi progetti, a cominciare dall'autonomia di questo ospedale, che sarà fondamentale per farlo diventare un ospedale sempre più centrale e strategico all'interno dell'Aso Napoli 3 Sud. L'ospedale Maresca di Torre del Greco diventa presidio autonomo di pronto soccorso. L'aveva già annunciato ai microfoni di TV City la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia in occasione dell'inaugurazione dell'ambulatorio per la prevenzione del melanoma nei giorni scorsi. Con la delibera 890 del 22 settembre dell'Aso Napoli 3 Sud, il nosocomio di Torre del Greco riavrà dunque piena autonomia, come previsto dal piano ospedaliero regionale. Questo risultato è frutto di una piena sintonia tra la direzione strategica dell'Aso Napoli 3 Sud e il governo regionale, spiega Raia. A partire da questo, insieme ai lavori che cominceranno a breve, purtroppo la burocrazia la fa da padrone in questi casi, ma il progetto è pronto, è esecutivo e quindi devono essere solo avviati i lavori, 6 milioni di euro investiti, riqualificazione totale del terzo e quattro piano, ricordiamo le sale operatorie che sono state recentemente riqualificate, ricordiamo che qui finalmente abbiamo la possibilità di rispondere al bisogno di salute per quanto riguarda ILEA della frattura di femore, stiamo lavorando a un potenziamento della presenza dei cardiologi che diventa fondamentale per assicurare un approccio terapeutico a partire dal pronto soccorso sempre più rispondente alle esigenze dei pazienti. Abbiamo fatto nostre le battaglie degli operatori sanitari, dei sindacati, delle associazioni e soprattutto dei cittadini, lavorando in questi sei anni con costanze di impegno, in sordina ma con grande tenacia per il rilancio e il potenziamento del Maresca. Continuiamo ad andare avanti perché crediamo fortemente, anche in un'epoca che speriamo di considerare presto, post-pandemica, l'offerta sanitaria pubblica deve essere sempre di più all'altezza di rispondere al bisogno di salute dei pazienti.